Grande paura urbana nel Padovano per l'incendio di un'abitazione. Le fiamme si sono sprigionate nel pomeriggio di ieri in una casa di via Rostello. Il rogo, scoppiato per un probabile malfunzionamento della canna fumaria, ha completamente distrutto l'edificio, provocandone il crollo del tetto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'anziana proprietaria che si trovava all'interno dell'edificio è riuscita miracolosamente a mettersi in salvo. Tuttavia ha però respirato molto fumo ed è stata subito presa in cura per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco, accorsi da Abano, Terme, Est e Legnago, hanno spento le fiamme, ma le operazioni di soccorso e di bonifica del territorio e di tutti i focolai sono terminate solo nella nottata. Risulta ora purtroppo inagibile l'abitazione per l'anziana residente.